Allora, 29 dicembre 2010, sono le 11.20, stiamo contando soldi da un'ora e mezza più o meno. Stiamo quadrando, stiamo quadrando. 1.756. Allora, aspetta, il liceo Torricelli di Fumo Avesoviano, il liceo scientifico deve essere rimandato in matematica? Bravo, 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 perché ci avevano detto che erano 2.597, invece Antonio che lavora in banca, Banca Sella, Antonio quanto è il conteggio finale? Sono 2.781,50, quindi si sono sbagliati di? Di circa 180 euro. Ce li volevamo mangiare all'inizio questi soldi, però poi senza di colpa li mettiamo in banca insieme a tutto il resto, buonasera. Con eventuali controlli in banca, però 5 di noi hanno dato questo. E' un'ora, 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 un'ora.